Ehi tu che stai guardando questo video, non fare proprio il no skin della situazione perchè lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore, hyper legit, tutto minuscolo, tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice, clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di fortnite sfide mezzo inverno, ci sono giunte ragazzi altre due sfide perchè se andiamo sulla sezione sfide ragazzi, oltre a tutte quelle che io ancora devo fare perchè alcuni regali non mi piacciono quindi non mi interessa di farle allora se ci fate caso, ieri abbiamo fatto questa sfida fase 2, distruggi un pupazzo di neve e subito con la spada laser o un piccone facile come cosa, ma oggi ragazzi se potete ben vedere come potete ben vedere, scusatemi, si è giunta questa sfida che è sbloccabile da 3 ore ma che andremo a completare adesso perchè io già so cosa fare e quindi ve la porto in anteprima magari sul canale e poi ragazzi si è aggiunta anche questo standard che se non ricordo male non c'era e invece questa scia c'era ragazzi quindi le uniche due sfide che si sono aggiunte in più sono per questo standard e per questo backpack veramente veramente fighissimo allora cosa ci dice questa sfida che andremo a fare oggi ragazzi ci dice distruggi le decorazioni del fiocco di neve allora ragazzi come ben ricordate per chi già gioca dalla season precedente d'inverno i 14 giorni di fortnite c'era sempre questa missione di distruggere per l'appunto questi fiocchi di neve tipo sono dei fiocchi appesi di neve appunto decorazioni carine eccetera ne dobbiamo distruggere ben 3 ragazzi quindi andiamo in mappa e vi faccio vedere la location esatta di cosa e dove distruggere queste decorazioni perché non sono in tutta la mappa presente ragazzi ok quindi ora starto la partita e vi porto con me in mappa a farvi vedere let's go allora ragazzi sono entrato dalla creativa in modo facile e veloce e semplice così magari facciamo subito subito perché andando in partita normale tanto alla fine sempre sto registrando in antiprima perdevamo solo del tempo perché magari ci sono nemici eccetera eccetera che potevano romperci le scatole invece dalla creativa vi faccio vedere la location in questo caso il corso commercio in modo facile e veloce allora sia sotto la statua del pesce ragazzi e sia mi sembra negli altri due zone di corso commercio ci sono però raga entrate in questa che li trovate sicuramente ed eccoli qua ragazzi questi sono i fiocchi di neve di decorazione da distruggere ben tre ragazzi allora noi distruggiamo uno due e tre sfida facilissima backpack bellissimo raga sbloccato easy peasy io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo nel prossimo video live vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale attivando la campanellina ciao a tutti ragazzi ciao a tutti